Lo spettacolo è uno dei grandi classici della drammaturgia, una delle opere teatrali più importanti dello scrittore russo. Era in programma nella stagione 2020-21, poi falcidiata dalla pandemia, ed è stato recuperato nel programma 2021-22. Nessuno allora avrebbe pensato cosa avrebbe significato oggi. La cultura, afferma l'assessore Francesco Attesti, non ha schieramenti. Certamente pur condannando quello che sta succedendo in Ucraina, un'invasione vera e propria, noi non possiamo assolutamente esimerci dal considerare, soprattutto rappresentare opere così importanti. Stiamo parlando adesso di un grande conoscitore dell'anima umana che è Anton Chekhov e una delle reazioni unanime è che avete attualizzato il testo di Chekhov. Abbiamo un testo che parla di cose, è stato scritto 120 e rotti anni fa, è un testo che parla di crisi, di dolori, di gioie, di illusioni e di fallimenti umani che ancora adesso anche i ragazzi giovani sentono molto attuali. La modernità di questo disagio da portare in scena ogni volta è come un po' doversi fotografare l'anima e buttarla nelle braccia del pubblico, senza maschere, senza timori, senza tabù, è tutto rappresentato nella verità con grande purezza. In questo momento storico, come diceva Giuseppe, tirare fuori questa roba, tirare fuori questa condizione umana, necessaria, primigenia e che racconta poi l'anima russa politica fuori da tutto, credo che sia almeno una responsabilità.